È qualcosa che è nato consultando i social, il web, quindi una campagna che è tesa a sensibilizzare i nostri concittadini ma anche i turisti che affollano numerosi il nostro territorio, soprattutto nel mese di agosto. Quindi una campagna tesa a salvaguardare il nostro ambiente. Noi diciamo sempre che bisogna puntare radicalmente alla differenziazione dei rifiuti e quindi alla diffusione della cultura del riciclo. Per farlo bisogna ricordare alcune regole elementari e ricordare soprattutto che quando si disperdono nell'ambiente alcuni materiali questi per la loro eliminazione richiedono molti anni se non addirittura anche dei secoli. E noi con questa iniziativa speriamo di sensibilizzare appunto il popolo trapanese ma non solo al rispetto dell'ambiente.